Si è parlato di papillomavirus e in particolar modo della prevenzione vaccinale e delle infezioni nel corso dell'iniziativa promossa dal dirigente scolastico dell'Istituto Paolo e Milioni Giudici, Giovanna Palazzolo. Si tratta della conclusione del progetto Nuova Genitorialità. Le famiglie hanno bisogno di essere informate. Questo rientra nel progetto più generale, quello sulla nuova genitorialità che abbiamo portato in atto tutto l'anno. Abbiamo incontrato la magistratura, le forze dell'ordine, esponenti della cultura. Oggi ospitiamo la medicina e soprattutto la prevenzione per i vaccini. Perché molte famiglie non sanno, non perché, ma perché non sono stati informati della necessità di vaccinare i propri figli maschi e femmine contro il papillomavirus. Oggi lo sanno. E spero di sì. A relazionare sono stati Salvatore Migliore, direttore dell'Unità Operativa di Epidemiologia delle Malattie Cronico-Degenerative del distretto sanitario di Gela, Luciano Di Vita, responsabile del servizio vaccinazione del distretto di Gela e Emanuela Bartoli, dirigente medico di ostretrice e ginecologia dell'ospedale Vittorio Emanuele. La vaccinazione contro il papillomavirus è una vaccinazione che è stata introdotta circa da dieci anni. È molto importante in quanto è un vaccino che va a proteggere da un'infezione virale data da un papillomavirus che purtroppo determina delle patologie tumorali. Quindi sia nella donna che nel maschio è importante, anche perché il maschio a volte è portatore del virus, quindi inconsapevolmente lo trasmette alla donna. Ecco perché la vaccinazione già da due anni nella regione Sicilia è stata estesa anche al maschietto adolescente di 11 anni. Questo perché? Per bloccare la trasmissione del virus. Dunque è importante vaccinarsi. Molto importante vaccinarsi. Abbiamo quest'anno fatto un programma esteso, soprattutto toccando vari aspetti dell'educazione alla salute e sicuramente l'aspetto più importante è quello della vaccinazione. In particolare abbiamo parlato della vaccinazione relativa alla prevenzione del tumore alla porzio. Questo tumore oggi è prevedibile attraverso una vaccinazione che fra l'altro è gratuita in determinate fasce di età. Quindi basta venire presso l'ufficio di igiene, settore vaccinazione e poter essere vaccinati gratuitamente.